Nella tradizione del Natale c'era una volta il presepe. Poi con il passare degli anni il presepe è stato soppiantato dal mitico albero di Natale. Oggi ecco padroneggiare nelle case il simpatico villaggio natalizio con luci a led, giostrini in movimento, la casa con l'incantevole fontana, la ruota panoramica e gli immancabili sciatori e pattinatori. Anche le usanze del Natale cambiano. Forse è colpa della tecnologia. Sara Assicurazioni, per te tutta la protezione che stavi cercando. Auto, casa, salute, infortuni, risparmio, previdenze, impresa. Le agenzie di Piacenza in via Maculani 36, Fiorenzuola d'Arda via 20 settembre 38 e Castel San Giovanni piazza 20 settembre 3 barra di ti augurano buone feste. Grazie! Grazie a tutti!